Rieccoci qui per un nuovo video, io sono Max, ragazzi eccoci qui pronti per parlare di grande fratello VIP perché Edoardo Donnamaria qui che si evince, si evidenzia, che è spesso finito al centro dell'attenzione proprio in questo ultimo periodo, quindi in questi giorni, ma soprattutto dopo l'entrata nella casa di Micolin Corvaia, una sua ex fidanzata che praticamente l'avranno fatta entrare per cercare di stussicarlo. Ma Antonella Fiordelisi ha scoperto tutto in diretta ed è andata su tutte le forie scontrandosi spesso con il volto di forum. L'influencer Campana non ha digerito tutti i vari abbracci che ci sono stati, che i due ex si sono scambiati a sua insaputa e nella zona beauty della casa è scoppiata la lite e hanno detto Ma che fai? Non ti vergogni? Vieni qui a fare la vittima? Ma che devo fare? Dobbiamo diventare migliori amiche, io e te. Perché? Quando io non ci sto, che fai? Abbracci lui, ma sei una ragazza furba. Così lo ha detto, però lo ha detto alzando abbastanza il tono, poi però ha rincarato la dose ed Edoardo Dona Maria ha sempre parlato di una frequentazione, frequentazione durata pochi giorni con Micolin Corvaia, ma la sorella di Clizia nelle ultime ore lo ha totalmente sbugiardato. Le cose che hai detto non stanno esattamente come le hai spiegate tu. A me sembra che tu abbia minimizzato. Hai detto io con lei sono stato tre volte, massimo cinque giorni, una volta quando è capitato. No, bello, non è andata così. Perché io ti voglio ricordare che fino a... Vabbè, dai, è meglio che non parlo. Ad esempio, quando mi hai chiesto di venire in vacanza a trovarti d'estate. E dai, su, sinceramente. Forse tu le cose le dimentichi, ma io me le ricordo. Poi vabbè, vabbè che sei stato tu a chiudere. Io ho pure i messaggi. Almeno hai avuto il coraggio di dirle che ci siamo voluti bene. E ancora, sempre Micolin Corvaia non molla la presa e fa... Ma poi, anche durante il giorno, nemmeno mi calcoli. Se per sbaglio rimaniamo soli, scappi. Lei può fare tutto e tra noi non può esserci nemmeno un abbraccio. Se lei guarda con quegli occhi, l'ex va benissimo, sì. Noi invece non possiamo guardarci, altrimenti sembra chissà che. Antonella usa due pesi e due misure. E se sta bene a te, allora va benissimo. Ma poi, vabbè, a lei piace fare la parte. Perché sa benissimo che io non ho interesse nei tuoi confronti. E in diretta, invece, mi stuzzica e mi attacca. Ma chiudendo un attimino questa parentesi, nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria si è intrattenuto a parlare in giardino seduto sulle scale con Antonella, anche con Attilio, anche con Luca Salatino. E a un tratto sono finiti a discutere di Alfonso Signorini e del trattamento che il conduttore riserva ai concorrenti. Secondo la schermitrice, il presentatore tratterebbe tutti allo stesso modo, che quindi non sarebbe sbagliata già come cosa, non essendoci, appunto, differenze tra i vari concorrenti. Edoardo, invece, non si è trovato d'accordo con la ragazza e ha detto «Ma non è vero che si trattano tutti allo stesso modo. Ognuno viene trattato in maniera diversa in base a quel che dà al programma». Non si può dire che Alfonso tratta tutti così, perché è vero che va sempre da Vilma, da Charlie e da Patrizia quando finiscono le clip. Se non noti questa cosa, che ti devo dire? Ma a questo punto, però, poi la regia ha censurato le parole di Edoardo Dona Maria, che quindi ancora ci stiamo chiedendo cosa diavolo avrà detto, e l'inquadratura si è spostata su un'altra zona, totalmente diversa, della casa. Siamo abituati a questo, quindi sappiamo anche cosa significa, insomma. Sicuramente qualche parolina pesante. Questo, comunque, è tutto per quanto riguarda questa news. Vi ringrazio tantissimo per l'ascolto. Come sempre, è stato un piacere. Noi ci sentiremo alla prossima, sempre su Pausa Caffè Live. Vi aspetto.